Si sarà un fine settimana molto ricco per il mondo del vino. In Abruzzo in questi giorni si sta svolgendo all'Aquila la selezione circa il premio internazionale della selezione del sindaco promosso dall'Associazione delle Città del Vino. In Abruzzo hanno partecipato 31 comuni della nostra regione, oltre 1000 vini da tutto il mondo sono arrivati all'Aquila. In questi giorni gli oltre 80 selezionatori stanno sviluppando la gradatoria, un appuntamento importante che lega il vino al territorio, alle comunità e in particolare ai comuni della nostra regione.